Ciao milanisti, bentornati o benvenuti, questo è il canale di Pianeta Milan, io sono Stefano Bressi, siamo a Milanello perché si è appena conclusa la conferenza stampa di Stefano Pioli e la vigilia di Milan Sassuolo, un Milan Sassuolo che chiuderà il 2023, è stato un 2023 tutto sommato ovviamente negativo, ce lo siamo detti tante volte, questo qui per il Milan, e la conferenza stampa di Stefano Pioli si è conclusa proprio con questa domanda, cioè se ci fosse una cosa negativa tra quelle che sono successe nel 2023 che potrebbe trasformare in positiva, quale sarebbe? Lui in conferenza non ha risposto in realtà, ha detto, o meglio ha risposto senza essere specifico, ha detto non credo ci sia bisogno che io lo dica, in realtà poi c'era qualche dubbio, alla fine questa cosa che avrebbe cambiato, che cambierebbe volentieri Stefano Pioli ed è probabilmente una delle cose che tanti milanisti cambierebbero volentieri, sono i cinque derby, sono i cinque derby che il Milan ha perso, ha detto che praticamente è ovviamente la cosa che più gli fa male, che più è quello che cambierebbe più volentieri di questo 2023, si è ripotizzato gli infortuni, si è ripotizzato la semifinale nello specifico del derby, che forse poi tra tutti e cinque è quella che ha fatto più male di tutti, però no, per Stefano Pioli in generale i cinque derby sono quelli che hanno fatto più male, però ovviamente non si può guardare solo al passato, bisogna guardare soprattutto al futuro, anche se Pioli più che al futuro guarda al presente, perché quando gli è stato chiesto come ha vissuto questa settimana in cui il suo futuro è stato messo in discussione, il suo futuro è stato in bilico effettivamente, perché poi la proprietà, la dirigenza ha valutato se confermarlo, se sostituirlo, non bisogna guardare tanto al futuro né mio né del Milan, dobbiamo guardare al presente perché il presente è la cosa più importante, abbiamo necessità tutti quanti, io, i tifosi, la squadra di avere continuità e quindi di ottenere soprattutto i tre punti nella partita di domani contro il Sassuolo. Il Sassuolo che è un'ammazza grande, quest'anno ha già battuto l'Inter, ha già battuto la Juventus, tra l'altro Pioli contro il Sassuolo in casa a San Siro da quando l'allenatore del Milan non ha mai vinto. Sono statistiche che da un lato possono far paura, dall'altro c'è da dire che il Sassuolo per Pioli è sempre stato un crocevia importante da un punto di vista più che altro positivo, mentre i passaggi a vuoto in casa sono stati un po' fini a se stessi, nel senso che poi non hanno portato grandi conseguenze, invece le vittorie che ha ottenuto contro il Sassuolo in trasferta l'hanno portato a vincere uno scudetto, perché il Milan vince a Sassuolo, o meglio a Reggio Emilia contro il Sassuolo il 19esimo scudetto il 22 maggio del 2022, l'hanno portato a rinnovare il contratto con il Milan al termine del suo primo anno rossonero, del suo primo mezzo anno rossonero, perché sembrava che fosse finita subito la sua avventura con Rangnick pronto a subentrargli e invece Pioli con un post-covid esaltante e anche in realtà un pre-covid, tutto sommato positivo, si guadagna la conferma, quindi il Sassuolo sempre un crocevia particolarmente importante per Stefano Pioli e chissà che domani non possa essere allo stesso modo positivo per lui, ma soprattutto per il Milan, perché poi ci sono le fazioni, c'è chi si divide, c'è chi dice Pioli out, c'è chi dice Pioli in, ma alla fine ciò che conta è sempre il bene del Milan e quindi se il Milan si dovesse rialzare, se il Milan dovesse riuscire a ritrovare continuità, che è stata la parola più utilizzata nel corso di questa conferenza stampa da Stefano Pioli, se il Milan dovesse trovare continuità di prestazioni e rendimento nel 2024, perché poi alla fine inizia un nuovo anno e poi c'è chi crede che con la fine di un anno e l'inizio di un altro possa cambiare tutto a livello di vibrazioni, di energie, e se il Milan dovesse finalmente iniziare il 2024 trovando continuità, allora potrebbe poi veramente riportare anche Stefano Pioli magari a essere considerato in maniera diversa. Il Milan, ha detto Pioli, non è necessario tempo e pazienza, o meglio sono necessari tempo e pazienza, ma non è la cosa più importante avere tempo e pazienza, perché serve immediatamente avere continuità. È vero che la stagione è lunga, è vero che ancora c'è tutto il giorno di ritorno, praticamente c'è la Coppa Italia, c'è l'Europa League, però se il Milan non riesce a trovare continuità nell'immediato non può pensare di guardare troppo avanti. Il futuro dipende dal presente, il Milan all'interno anche delle stesse partite non segue un filo conduttore che duri per tutti i 90 minuti, non può pensare di porsi dei grandi obiettivi e di guardare troppo avanti. È per questo che bisogna guardare partita per partita, ma soprattutto 90 minuti per 90 minuti, attimo per attimo, momento per momento. Non è perché la squadra non ha la sensazione di cosa significhi perdere, non è perché vincere, perdere o pareggiare è la stessa cosa per questi giocatori, ma perché bisogna avere la scaltrezza, bisogna essere anche più furbi, più svegli, più attenti nei dettagli, nei minimi dettagli che possono poi fare la differenza all'interno di una singola partita. È questo il punto su cui ha battuto tanto Stefano Pioli. Poi ha detto che è stata una settimana di lavoro, di molto lavoro, di lavoro molto intenso, ovviamente ha festeggiato il Natale con la famiglia, ma comunque poi nel corso della settimana ha lavorato tanto per cercare di migliorare immediatamente i risultati. Dal punto di vista dell'infermeria e degli infortuni non ci sono particolari novità per quanto riguarda i giocatori out, perché Jovic sarà recuperato, come avevamo anticipato, ha smaltito la botta alla caviglia e quindi anche oggi si è allenato e domani sarà convocato. Non sarà convocato Pellegrino nonostante sia clinicamente guarito, così come non sarà convocato Musa, che dovrebbe esserci con l'Empoli, nonostante anche lui sia clinicamente guarito. Successivamente dovrebbero rientrare Ocafor e Sportiello, quindi dopo la partita con l'Empoli è Ocafor e Sportiello e successivamente bisognerà anche valutare l'istituzione di Pellegrino. Per quanto riguarda la formazione dunque, quale dovrebbe essere l'undici titolare che affronterà domani il Sassuolo a San Siro? Non ci dovrebbero essere stravolgimenti, non ci dovrebbero essere grosse sorprese, si va verso il 4-3-3 classico con Magnan Trepali, con Calabria largo a destra e Florenzi largo a sinistra. Al centro i superstiti, ovvero Kier e Teo Hernandez, in realtà ci sarebbe anche Simic ma per il momento sembra che non parta dal primo minuto. A centrocampo, Loftucic, Ben Nasser e Reinders vanno a comporre la mediana che in teoria è quella titolare del Milan e davanti Pulisic, Giroud e Leao. Di Giroud e Leao se ne è parlato, mi è stato chiesto più che altro se anche i leader di questa squadra dovrebbero prendersi un po' più di responsabilità, dovrebbero fare di più perché poi sì la dirigenza, sì l'allenatore però poi alla fine in campo ci vanno i giocatori e ha risposto in maniera abbastanza chiara e anche un po' piccata, devo dire. Mi è sembrato un Pioli comunque abbastanza frizzante, nervoso, ovviamente perché sa comunque che alla fine la partita di domani potrebbe essere quella decisiva. Teo Hernandez, gli è stato chiesto se Teo Hernandez e Leao dovrebbero essere più leader caricarsi di più la squadra sulle spalle, offrire prestazioni migliori. Ha detto sì, sicuramente tutti quanti possiamo fare meglio sicuramente le prestazioni di Teo Hernandez e di Leao non sono all'altezza e non sono buone prestazioni ma è sbagliato parlare dei leader e dei singoli così come è sbagliato parlare di dirigenza allenatore perché secondo quello che ha detto Stefano Pioli si è un gruppo unito, si è un'unica entità, il Milan è uno solo e tutti quanti stanno lavorando insieme per cercare di migliorare la situazione e raggiungere gli obiettivi quindi non è colpa dei giocatori, non è solo colpa dell'allenatore, non è solo colpa della dirigenza è una situazione che riguarda tutti quanti e tutti quanti devono lavorare per risolverla ovviamente un altro tema di stretta attualità è quello riguardante la Chukweze Ben Asser che in teoria già dopo la partita di domani dovrebbero essere a disposizione delle rispettive nazionali in vista della Coppa d'Africa ma ha confermato Pioli oggi in conferenza si sta lavorando per cercare di trattenerli almeno fino alla partita del 2 gennaio in Coppa Italia contro il Cagliari che potrebbe essere importantissima per il Milan per poi farli partire bisognerà capire però se sarà possibile oppure no ha detto Pioli, so che c'è una trattativa in corso ma non sa di più così come non si è sbilanciato sul mercato e per quanto riguarda Ibrahimovic che è andato a Miami in questi giorni ha chiarito come fosse un impegno che Ibrahimovic aveva già preso prima di tornare ad avere questo ruolo nel Milan e che quindi non si aspettava nulla di diverso che comunque non è questo il problema secondo Stefano Pioli e giustamente io mi trovo anche abbastanza d'accordo è tutto qui da Milanello e vi ricordo di lasciare un mi piace a questo video iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti attivate la campanella e commentate per dimmi la posta seguitici su pianeta milan.it e su tutti i nostri profili un saluto a parte di Stefano Bressi e appuntamento al prossimo video